Dicono che un'icona non cambi ma si rinnovi, compito piuttosto difficile dopo ben 58 anni. Nonostante questo però la nuova Fiat 500 si è rinnovata ma con discrezione, tanto da celare sapientemente gli oltre 1900 componenti tutti nuovi di questo ultimo modello. La faccia simpatica rimane quella di sempre con l'aggiunta di due nuovi occhioni a led davanti e fari ridisegnati al posteriore. E già che di sorriso stiamo parlando, da quello della nuova Fiat 500 si scorge un bel apparecchio cromato con tanto di baffi laterali che adornano i fendinebbi. Qualche sbrillucci chi o il meno, secondo me, non avrebbe guastato ma sono gusti personali. Dal posto di guida si colgono le differenze, anche se minime rispetto alla generazione uscente. In primis il nuovo schermo touch da 5 pollici, ora più alla portata di indice. In secondis il volante con i nuovi tasti e qualche cromatura in più. Per il resto nulla è cambiato, la strumentazione digitale per esempio era già presente sul modello precedente. Punto forte anche della nuova 500 però rimane la classica seduta alta, con la leva del cambio vicina al volante, piacevolissima in città. La buona icona di stile della nuova Fiat 500 2015 non poteva che sforgiare un bel guardaroba. Il rivestimento più sciccoso è senza dubbio il principe di Galles che le dona quel particolare tocco di classe che sulla 500 non può mancare. Mi sono messo al volante del bicilindrico Twin Air da 105 cavallo. Sarà perché sono un inguaribile nostalgico, sarà perché va un gran bene, ma a me il bicilindrico piace, anche per come suona. E poi mette l'accento sulla sportività. Dopo un cenno di ritardo nella risposta si concede in un buon allungo, smorzato nei toni dai nuovi pannelli fonoassorbenti nei passaruota e nella paratia tra vano motore e abitacolo. Per chi pensa ad un impiego e lungo raggio, la nuova 500 conferma anche l'arrivo del 1.3 Multijet da 95 cavalli, che ora risponde alle normative Euro 6. Per i più attenti ai costi di gestione c'è sempre da tenere presente anche una terza via. Ovvero quella del 1.2 Fire a doppia alimentazione, benzina e GPL. Completano la gamma, il sempre verde 1.2 Fire da 69 cavalli e la variante da 85 cavalli per Twin Air. Disponibile da subito, la nuova 500 apre il listino con un prezzo d'attacco di 13.600 euro per la 1.2 Benzina in allestimento POP. Per la cabrio, con lo stesso allestimento invece, si parte da 17.100 euro. La bella notizia è che i prezzi sono rimasti sostanzialmente quelli del modello precedente.